Iaia Turek Casorla ha spazio per tirare Oxlake Sember Lane portiere che si allunga e sventa la minaccia Continua il tiki-taka alla ricerca Marziao Il gioco fondamentale cambia tutto Ottimo l'intercetto del pallone Vitto! Ottimo l'intervento del portiere C'è un'ottima rete di passaggio Prova l'Outgroup Chissà cosa avrà mangiato oggi il portiere per essere così insuperabili Ottima parata Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!